Il professor Muzioli, oltre a essere da anni stimato, amato e apprezzato dai suoi studenti della Facoltà di Lettere della Sabienza, insieme a Marcello Carlino e anche a Maurizio De Benedictis, è anche un importante saggista e critico letterario. Significativi e preziosi sono stati in questi anni tanti suoi contributi alla cultura e alla letteratura italiana, ha scritto saggi e interventi su Pasolini, su Campana, su Pascoli, si è occupato delle neovanguardie novecentesche, si è occupato della postmodernità, ha scritto molti saggi molto importanti proprio sulle teorie della critica letteraria. Costante in questi anni è stata la sua attenzione proprio dedicata a questo grande scrittore, appunto Luigi Malerba, attraverso biografie, saggi e interventi critici. Quindi penso, professore, che cedo la parola e nessuno meglio di lei ci potrà raccontare e accompagnare in questo meraviglioso percorso di narrazione. Grazie, ringrazio molto Francesca Buratti per la sua gentile presentazione, anche per l'invito e saluto molto anche tutti i partecipanti a questa serata malerbiana. Ecco, vorrei tracciare un attimo il percorso di questo scrittore, indubbiamente importante nella fase del secondo novecento e vediamo fin dove arrivo nei limiti di tempo che ci siamo dati, lasciando magari un po' di spazio anche eventualmente per le vostre domande. Non sarà facile perché l'autore ha lavorato molto, si potrebbe forse dividere anche in fasi diverse la sua attività, ma prima vorrei preparare l'ascolto. Allora come ci si predispone alla lettura di Malerba? Innanzitutto dobbiamo rinunciare alla nostra estetica del bello, non troveremo nessuna ricerca estetizzante e neanche in fondo sentimentale. Semmai Malerba, io ho usato questa espressione, lavora con un'estetica dello strano. Strano è una parola che ricorre moltissimo nei suoi romanzi, quindi questa ricerca della stranezza, il suo protagonista è spesso un personaggio anomalo, disturbato, atipico e quindi qui possiamo vedere anche una deroga a quello che noi ci aspettiamo, cioè il realismo della verosimilianza. E poi ecco invece di coinvolgere il suo lettore, come oggi si dice, l'empatia e quant'altro, invece prepara delle trappole al lettore, prepara delle sorprese, quindi vuole esattamente sorprendere il suo lettore. Dunque, Malerba proviene da Parma, viene a Roma da Parma, dove tra l'altro Roma entra anche nella industria cinematografica, come ricordava prima Francesca Buratti, e poi a Roma incontra gli autori critici della Neavanguardia, che Malerba però costeggerà in qualche modo, anche perché mentre la narrativa della Neavanguardia è esattamente un antiromanzo, dove le trame vengono disgregate, atomizzate, eccetera, invece Malerba resta un narratore, resta dentro, diciamo, la struttura del romanzo, però con alcuni accorgimenti che lo fanno in qualche modo esplodere dall'interno. Per esempio, allora, i due romanzi degli anni 60 sono Il Serpente, 1966, e Il Salto Mortale, che è del 68, già questo titolo, no? Fa pensare ad una capriola, è un pochino audace. Allora, nel Serpente noi abbiamo un narratore inattendibile, siamo portati a ritenere come vere le cose che il narratore ci racconta. Che cosa succede se man mano scopriamo che il narratore ha detto delle bugie, se appunto all'interno della finzione c'è della falsità, ecco, questo sviluppare la falsità dentro la finzione. Cioè, ha detto che ha una moglie e non ha una moglie, un amico e non si sa, eccetera, eccetera. Ha una storia d'amore con una donna che poi uccide e divora, quindi addirittura c'è questa... un episodio di cannibalismo. Ma forse si è inventato tutto, è un mitomane. Tant'è vero che il commissario che dovrebbe investigare sul delitto lo tratta esattamente come un inventore di storie strampalate. E poi, alla fine, forse, è ricoverato in una casa di cura, forse addirittura è defunto e parla dall'aldilà. Quindi appunto siamo sempre avvolti in una sorta di dubbio su quello che il narratore ci dice. è un esempio di narratore inattendibile, veramente contro la tradizione. Mentre Salto Mortale c'è un passo ulteriore. Cioè lì veramente Valerba ha fatto un esperimento molto avanzato per la sua epoca e anche per oggi. Cioè ha creato una sorta di narratore diviso. C'è un personaggio che parla e ce n'è un altro. Lui dice una voce alle mie spalle. Una voce alle mie spalle che dialoga con lui. e smentisce quello che la prima voce ha sostenuto. Quindi entriamo qui in una sorta di perplessità continua su quello che la narrazione ci dice. Anche in questo caso Malerba va a scomodare la struttura del romanzo giallo. Anche nel serpente c'è appunto un delitto che non sappiamo se si sia verificato. E in Salto Mortale anche c'è un cadavere in questa pianura che non si sa bene di chi sia. Forse è addirittura il personaggio che racconta, che anche qui potrebbe essere lui stesso la vittima dell'omicidio. Segue delle sue tracce alla ricerca del colpevole e incontra tutti i personaggi che si chiamano come lui. Lui si chiama Giuseppe, detto Giuseppe. Già in questo appunto abbiamo una programmatica, come dire, eco, un'eco programmatica. E così pure tutti Giuseppe che si susseguono nel corso del libro. E questo certamente è scritto in un modo molto particolare. È un esperimento tra l'altro praticamente irripetibile. Se avremo tempo adesso poi vorrei fare anche una piccola lettura per rendere questo stile particolare. Tra l'altro ecco qui abbiamo due dimensioni che Maderba prende in questa sua prima fase che sono già il comico, perché appunto questa struttura di smentite eccetera effettivamente fa ridere. È un romanzo che si basa certamente sulla strategia umoristica. E dall'altra il linguaggio basso, quello che si diceva all'epoca il linguaggio basso, cioè vicino al parlato. Che è un modo certamente con cui Maderba partecipa a questa narrativa che si toglie da una certa atmosfera anche estetica, come poteva essere quella dei Bassani, dei Tomasi di Lampedusa, che appunto sono su un'altra linea narrativa. Per la verità poi il comico vero e proprio compare negli anni settanta. Gli anni settanta non a caso sono gli anni in cui anche in Italia si scopre la teoria del comico di Bakhtin, la teoria del carnevale. E i romanzi che scrive Maderba negli anni settanta, il protagonista che è del 73 e il pataffio che è del 78, sono impostati effettivamente su questo basso corporeo, quindi qui non è soltanto il linguaggio ma anche la tematica. La tematica è quella del sesso e quella della fame, appunto, questi elementi del corpo. Il protagonista, ecco anche qui c'è una sorta di sdoppiamento, perché chi racconta nel protagonista è un membro virile, quindi è una parte del corpo, di De Roo aveva scritto i gioielli discreti, forse Maderba un po', se lo ricordate, e fa parlare esattamente il membro virile, che ovviamente fa parte di un personaggio che con una certa ragione viene chiamato il capoccia, sia perché la testa che quindi pensa e agisce sostanzialmente e controlla l'agire, sia perché comanda appunto. E quindi abbiamo il narratore da una parte, che è una parte del corpo, il personaggio dall'altra, anche qui, quindi con questo gioco. E mentre invece il pataffio, ecco il pataffio è forse il romanzo di Maderba, dove il linguaggio è più veramente inventivo. Il pataffio è ambientato nel Medioevo, quindi appunto è un tempo di barbarie, dove appunto contano solamente i rapporti di forza, e quindi la fame, l'appetito sessuale, hanno spadroneggiano, e dove appunto c'è il comico perché c'è la povertà, c'è la miseria, c'è un nobile che appunto poi è nobile fino a un certo punto, il Marconte, c'è una sintesi di Marchese e Conte, però in realtà ha avuto un feudo da burla, si chiama Berlocchio di Cagalanza, del feudo di Tripalle, quindi appunto c'è questa nominazione già di per sé estremamente comica, e appunto anche qui quindi vediamo che c'è il basso corporeo, ma non c'è quella che potremmo aspettarci, appunto parlavo prima del carnevalesco. Nel carnevale c'è l'emersione del represso, gioiosa, mentre invece anche nel protagonista l'attività sessuale poi alla fine finisce nello scacco, finisce nel negativo, e così anche il Medioevo del pataffio, c'è la miseria, c'è la violenza, soltanto con una differenza, effettivamente qui nel 78, e pensiamo appunto agli anni, anche i movimenti che ci sono in quel periodo, ecco nel pataffio c'è la vittoria del popolo, ecco qui una sfumatura utopica, i popolani a un certo punto fanno fuori i padroni, fanno fuori la nobiltà feudale, e c'è addirittura una sorta di costituzione che nasce dal basso, che propone la libertà totale, libertà con due b, perché appunto poi c'è tutto un insieme plurilinguista in questo romanzo di parlate, dalle parlate curiali ufficiali, a quelle plebè che sono, diciamo, recuperate dal diaretto, da una pronuncia diarettale centroitaliana, e poi c'è il prete che parla una specie di latino maccheronico, il frate che parla un linguaggio maccheronico, quindi tutto questo viene mescolato nella scrittura appunto di Malerba. Allora ecco abbiamo, vediamo questo aspetto, la costituzione libertaria, che posizione politica ha Malerba, ecco si potrebbe parlare di un suo socialismo in qualche modo, e forse il romanzo più politico che Malerba ha scritto è quello che viene alla metà degli anni Ottanta e che si intitola Il pianeta azzurro, Il pianeta azzurro è la terra vista dallo spazio, ed è un romanzo piuttosto ampio che forse potremmo dire viene a chiudere la prima fase dell'opera Malerbiana. Ecco guardando le date, il pianeta azzurro dell'86, mi veniva quasi da vedere una sorta di perfetto parallelismo, perché il primo romanzo Il serpente del 66, il pianeta azzurro del 86, passano vent'anni, l'ultimo romanzo Fantasmi Romani è del 2006, quindi come dire, di vent'anni in vent'anni. Ma restiamo a pianeta azzurro, nel pianeta azzurro c'è un po' l'eco del terrorismo. C'è un personaggio che ha lasciato una sorta di memoriale, questo personaggio che si chiama Demetrio, che prepara un attentato, o almeno così dice nel questo memoriale, per far fuori il professore. Il professore è un personaggio politico ambiguo, legato alla massoneria, responsabile di tutti gli intrighi dell'Italia di quel periodo. Poi naturalmente si è ipotizzato chi potesse essere questo verme, come Demetrio lo chiama nella sua memoriale. Ecco, Demetrio è un personaggio estremamente disturbato, anche qui, e potremmo vedere, ecco, in questo personaggio che prepara un attentato politico, una sorta di funzione simile a quella del Don Quixote. Don Quixote è un romanzo, forse potremmo dire, è la matrice del romanzo moderno, certamente, il prototipo del romanzo moderno, ma l'erba lo cita tantissime volte. E in fondo cosa fa Cervantes nel Don Quixote? Prende un personaggio folle e quindi noi diciamo, prendiamo le distanze dalla follia del personaggio, viene stigmatizzato in quanto folle, però poi gli fa dire e gli fa fare le cose giuste. Allora, ecco, si possono dire delle cose attraverso il personaggio folle. Così in fondo anche Malerba, no? Demetrio appare effettivamente come un pazzo paranoico, e però forse in fondo la sua intenzione non è cattiva, no? Perché si tratta di eliminare il responsabile dei mali del paese. Ecco, anche qui però, poi Malerba costruisce un gioco di scatole cinesi, c'è il primo narratore Demetrio, poi c'è la persona che ha trovato i diari di Demetrio e che li commenta capitolo per capitolo, chiamiamolo il chiosatore, secondo narratore, e poi c'è l'autore, che a questo punto compare in qualche modo dentro al libro come personaggio, anche se appunto parlerebbe in prima persona, Malerba bisogna sempre stare attenti, no? Quando siamo dentro a una finzione, no? Anche il nome del vero autore non è poi esattamente il vero autore. E che fa un commento finale a tutto questo, a tutto questo materiale, ipotizzando anche che il primo narratore Demetrio e il chiosatore siano la stessa persona, quindi entriamo di nuovo esattamente in un gioco dove la credibilità del narratore è messa in dubbio. Tra l'altro proprio nella parte dell'autore che dovrebbe corrispondere alla realtà, si viene a sapere dalla televisione che l'attentato è stato compiuto, cosa che invece noi sappiamo benissimo, che quel personaggio, sempre che sia quello che sia ipotizzato, non è stato per niente ucciso da nessun terrorista. Quindi la parte che dovrebbe corrispondere alla realtà è quella che contiene comunque una notizia inventata. Bene, vediamo cosa succede dopo. Allora questa potrebbe, potremmo dire, è la prima fase dell'opera malerbiana, i suoi primi venti anni, segnati soprattutto all'inizio esattamente da una sorta di adesione allo sperimentalismo. Nella seconda parte, che appunto comincia nel 90, il primo romanzo di questa seconda fase, che cosa succede? È l'avvento del postmoderno anche in Italia. Non ve la sto a far lunga su cosa sia il postmoderno, se ne è discusso molto. In Italia è soprattutto un momento, diciamo, di normalizzazione della narrativa. Lo possiamo esemplificare con forse il primo dei romanzi postmoderni, Il nome della rosa di Eco, anche Eco aveva fatto parte del gruppo 63 della neovanguardia, però Il nome della rosa è un romanzo, anzi un giallo, in quel caso perfettamente fungibile. E malerba anche si può inserire in questo, in questa nuova atmosfera, però tenendo presente che il suo ritorno verso delle strutture più normali è sempre attraversato da questi giochi, da questa logica della sorpresa, del paradosso, gli sdoppiamenti, gli scambi tra i personaggi e quant'altro. In questa fase Malerba scrive anche dei romanzi storici. Ecco, il romanzo storico è quanto di più legato alla realtà, è anche il romanzo più faticoso da scrivere perché nel romanzo storico lo scrittore deve documentarsi per ricostruire questi mondi del passato. Nel 90 esce Il fuoco greco, che è ambientato a Bisanzio, appunto nell'impero bizantino, e nel 94 scrive Le maschere, che è ambientato nella Roma papale del Cinquecento, e poi si può mettere come romanzo storico anche Il circolo di Granada, perché è ambientato nella Spagna, per l'appunto, come dice il titolo, dell'Ottocento. E questo esce nel 2002, uno degli ultimi romanzi di Malerba. Tra l'altro in questi testi, non in tutti i testi della sua seconda fase, ma in questi testi che ho menzionato, Malerba scrive alla terza persona, mentre appunto nel Salto Mortale, Serpente e Pianeta Azzurro sfrutta la prima persona, appunto il narratore che poi viene smentito. In questi casi invece il gioco tra finzione e falsità è tutto, diciamo così, all'interno della storia, diventa tutto interno alla storia. E possiamo collocare in una zona anche vicina alle tendenze del postmoderno, che spesso appunto ha teorizzato la riscrittura, un libro come Itaca per sempre. Itaca per sempre è una sorta di riscrittura dell'Odissea, niente meno, questo grande classico della letteratura universale, che viene ripreso da Malerba nell'ultima parte, cioè quando Ulisse ritorna a Itaca in sottomentite spoglie. Ecco dove si interessa al nostro scrittore, appunto in quel caso la falsità dentro la finzione. La storia è inventata, ma dentro la storia è inventata c'è appunto il camuffamento, c'è la menzogna. Bene, appunto dicevo che ci sono anche in questa seconda fase, per esempio, dei giochi di strategia. Il fuoco greco è tutto basato sugli intrighi di corte e quindi i dialoghi reticenti per cui i sottoposti dicono e non dicono, devono dire quello che devono dire, no? C'è questa la formula del fuoco greco, che è quest'arma micidiale della lotta navale, no? Il fuoco greco ha una formula segreta. Chi la vede è in pericolo perché non la deve conoscere nessuno e quindi bisogna stare attentissimi a non cadere nel trucco di capitare davanti alla formula del fuoco greco e si viene eliminati. Ecco, in altri casi appunto ci sono delle finzioni di identità. Nelle pietre volanti, per esempio, nel 92, Mallerba si inventa un personaggio, questo di Arla in prima persona, e che sostanzialmente gli attribuisce le opere dell'artista Fabrizio Clerici, quindi come se entrasse un po' in questo altro, in questa altra persona, in questa altra persona. E poi certamente c'è il sogno, è spessissimo in Mallerba compare il sogno e forse proprio attorno al sogno c'è uno dei libri più particolari, che non è propriamente un romanzo e che tra l'altro sarebbe da mettere ancora prima del pianeta azzurro nello sviluppo cronologico, avrei dovuto sistemarlo lì, perché dell'81 è il diario di un sognatore. Cioè Mallerba evidentemente ha una grande attività onirica e si propone di registrare tutti i sogni che ha fatto nel corso di un anno, giorno per giorno, esattamente il diario di un sognatore. Questo libro è estremamente paradossale, perché di solito si fa il diario di quello che si fa durante il giorno, invece questo è il diario dell'attività notturna. E poi c'è anche un altro paradosso, che effettivamente se noi seguiamo un diario qualcuno può controllare quello che scriviamo, mentre invece nessuno può controllare i nostri sogni, per cui il diario di un sognatore potrebbe anche essere completamente inventato, nessuno ci garantisce che quelli siano esattamente i sogni che l'autore ha fatto. Ecco, e appunto esattamente il sogno compare in tantissimi libri maliardiani. Ecco, il narratore si stabilizza in questa seconda parte dell'attività narrativa di Mallerba, fino a un certo punto, perché è vero, il narratore sdoppiato del salto mortale è sostanzialmente irripetibile. Ci sono però due libri che Mallerba scrive con un narratore alternato ed è interessante notare che si tratta in entrambi i casi di una voce maschile e una voce femminile. Il primo è Itaca per sempre, dove appunto parlano Ulisse e Penelope, che è interessante perché noi vediamo quello che pensa ciascuno dei due e quindi veniamo a sapere che Penelope ha subito riconosciuto Ulisse e poi ha fatto finta di non riconoscerlo per vedere come si sarebbe comportato per cui lei sa che lui è, lui non sa che lei sa, eccetera. E quindi si crea esattamente questo gioco paradossale, dove appunto è il personaggio femminile peraltro che conduce il gioco. Potremmo vedere anche un segno dei tempi perché mentre il protagonista oggi potrebbe suscitare qualche rimostranza, appunto la presenza di questo pene narrante. Invece ecco, in questa seconda fase, appunto c'è il personaggio femminile che ha in qualche modo il sopravvente. Tra l'altro vorrei ricordare che Mallerba ha scritto un racconto, perché anche autore di racconti ha scritto vari volumi di racconti, un racconto molto gustoso intitolato Il Marito Femminista, dove appunto fa parlare il personaggio maschile il quale dice sì è giusto, è vero, bisogna essere femministi, io do a mia moglie tutta la libertà che lei vuole, però se lei non sa che cosa farsene allora me ne vado dagli abici, la chiudo in casa. Ecco, quindi questo è esattamente un esempio. molto ben fatto di ironia della narrazione, dove il personaggio si demistifica da sé, lo si fa a parlare, si crea un personaggio che sostiene certe cose e però mentre le sostiene sostanzialmente si dimostra che non non coincide affatto con queste sue affermazioni. Ho fatto una breve parentesi, l'altro romanzo scritto a narratori alterni è I fantasmi romani, fantasmi romani del 2006 che è l'ultimo romanzo malerbiano. Il marito e la moglie appunto si alternano, tra l'altro ciascuno poi ha un amante, per cui c'è un classico, non triangolo, un classico quadrilatero e dove a un certo punto si crea anche qui una sorta di di uso della finzione, perché il marito scrive un romanzo dove appunto ci sono queste coppie, dove riproduce sostanzialmente la situazione della realtà e con questo romanzo, che poi lui sa che la moglie va di nascosto a leggere, in un certo senso, incanala la vicenda, la vicenda tra virgolette reale, che poi ovviamente è finta anche quella, ecco la vicenda tra virgolette reale, la incanala in modo tale poi alla fine da creare, ecco in questo caso la vittoria strategica finale è del personaggio maschile, ma quello che interessa però in questo caso a malerba è precisamente la l'efficacia della finzione, l'efficacia quindi di qualcosa che non esiste propriamente, che tuttavia influisce sulla realtà. Il primo libro che ho scritto, anche l'unico libro, poi ho scritto tanti saggi su malerba, il primo libro che ho scritto si intitolava La materialità dell'immaginazione, per l'appunto, no? la finzione immaginaria, ma ha un effetto poi nella realtà, quindi ha una sua materialità. E c'è un racconto di malerba che si intitola Il dolore fantasma. Il dolore fantasma è quando ci tolgono un dente che ci faceva male e continua a farci male. Ecco, qualcosa che non c'è e tuttavia continua ad avere degli effetti. E appunto abbiamo i fantasmi romani. Ecco, i fantasmi romani sono dei fantasmi, personaggi della finzione e tuttavia hanno poi degli effetti su di noi. Per questo serve una narrazione intelligente che ci faccia riflettere. Un'ultima cosa, ecco, ancora vorrei dirla sul rapporto tra questa invenzione letteraria, poniamo quella sui narratori che abbiamo visto e l'aspetto politico. Dicevo prima il socialismo malerbiano. C'è una sorta di civismo in malerba, ecco, potremmo riportarlo ad una posizione come dire, di onestà civile e quindi lo sdegno appunto per la corruzione lo sdegno per la politica politicante e soprattutto il degrado ecologico su questo malerba fino dal salto mortale. Ci sono delle pagine contro la distruzione dell'ambiente ecco, quindi è su queste posizioni da parecchio tempo e nei fantasmi romani si parla di una sorta di allergia politica di allergia alla politica cioè il personaggio quando vede certi personaggi politici in televisione comincia a star nutire, comincia a star male ecco malerba aveva un po' queste forme allergiche questo potrebbe essere un dato biografico ma le applica spesso nei romanzi e in questo caso le applica a questa sorta di malessere che la politica può dare e nei fantasmi romani il personaggio maschile si chiama Giano quindi anche qui è bifronte bifronte il personaggio uno dei due una delle due voci narranti e fa delle lezioni di urbanistica dove propone la decostruzione urbanistica sono delle pagine che diciamo anche queste fanno pensare di un intervento radicale nell'ambito della città dove poi appunto malerba sa che c'è la decostruzione in quel periodo che è un metodo critico che viene dall'america eccetera eccetera lo applicano all'architettura e appunto alla costituzione della città per cui in queste lezioni Giano propone di fare un po' di operazioni di snellimento insomma forse sarebbe l'unico modo per risolvere i problemi fortissimi che hanno le città in cui noi viviamo e quindi ecco in fondo ricostruzione urbanistica una sorta di igiene narrativa ecco malerba vuole farci pensare perché è vero che noi come disse Coleridge dobbiamo sospendere l'incredulità perché altrimenti nelle finzioni dei romanzi non troveremmo niente di interessante no? perché tanto dice quello non esiste che lo leggo a fare quindi dobbiamo credere però nello stesso tempo una narrativa come quella di malerba reinserisce in qualche modo l'incredulità e quindi ci suggerisce di stare attenti perché attraverso i fantasmi della narrativa tanti modelli di comportamento stereotipi e quant'altro ci entrano poi entrano poi nella nostra mentalità bene vorrei chiedere a questo punto a Francesca Buratti se ci sono molte domande perché altrimenti vi farei un paio di piccole letture perché altrimenti sì mi dica il professore può prosentere con le letture perché al momento non vedo domande in chat allora io soprattutto vorrei prendere salto mortale perché appunto vi ho detto questa scrittura è molto particolare e leggere la parte la pagina iniziale dove appunto troviamo stabiliti questi due personaggi vorrei cercare di rendervi anche la bivocalità di queste due voci me lo sogno vedete il sogno me lo sogno o lo senti anche tu questo ronzio questo ronzare da dove viene dal cielo dalla terra stai calmo non è niente allora sono le mie orecchie ma no viene da fuori questo ronzio questo ronzare non sono le mie orecchie allora te lo dico io che cos'è sono le antenne di santa palomba della radio televisione sta parlando il papa forse hai ragione ho sentito delle parole in latino ha detto magis magisque in questo momento certo che il papa parli in latino come vuoi che parli quella è la sua lingua come il francese per i francesi sono secoli e secoli che i papi parlano in latino ma è una lingua morta per piacere il papa parla come vuole lui va bene il latino ma non può essere il papa che fa tutto questo ronzio questo ronzare guarda che il papa quando si arrabbia è come il temporale uno sciame di mosche sta volando nel cielo di pavona secondo me sono loro e invece ti sbagli vedrai che il papa che parla alla radio vaticana aveva già a quell'epoca la radio vaticana delle frequenze bruttissime e quindi anche qui un po' l'allergia il fastidio ma l'erba ha scritto che la sua narrativa nasce sempre da un forte disagio il ronzio che si sente della radio adesso vorrei leggervi però saltando dall'inizio non è proprio il primissimo è il salto mortale è il secondo vorrei prendere i fantasmi romani quindi l'ultimo romanzo di malerba e vediamo un poco adesso qui lo stile è meno vivace però l'invenzione umoristica certamente anche qui fa sorridere il discorso della decostruzione urbanistica riservato proprio alla città di Roma e questa lezione che Giano impartisce ai suoi studenti della facoltà di architettura per cominciare Giano aveva progettato la demolizione di interi isolati del quartiere Parioli diviso nella grande carta topografica e in tante sezioni operative aveva segnato con un evidenziatore verde le aree da demolire il verde voleva significare che quelle aree dovevano essere trasformate in giardini alberati oppure in piccole piazze ogni piazza collocata sulla direttiva di una linea della metro già presente o futura doveva essere dotata di un cinema o di un teatro di caffè e ristoranti di un supermercato e senz'altro di un grande garage sotterraneo eventualmente una discoteca una palestra una piscina dopo i Parioli Giano voleva dedicarsi a risanare Vigna Clara che andava semplicemente diradata una casa sì e una no poi si trattava di affrontare il problema dei grandi formicai della Tuscolana dell'Appia Nuova e della Tiburtina che diceva in confidenza andrebbero semplicemente rasi al suolo e ricostruiti in verticale in progressione un grattacielo ogni dieci formicai così da occupare un decimo della superficie per sistemare la stessa popolazione molto spazio intorno molto verde molta aria molta luce un programma più facile da realizzare era quello delle periferie più civili come il quartiere africano o i collianiene che si potrebbero dotare di grandi piazze distruggendo solo pochi isolati si trattava semplicemente di fare delle scelte strategiche alle quali erano invitati a collaborare anche gli studenti ebbene direi che è un progetto un po' radicale ma visto che stiamo aspettando una nuova giunta alla città di Roma e i mali di Roma sappiamo quanto siano endemici e difficili da risolvere forse si potrebbe passare questo progetto di Giano alla nuova giunta ho qui un bel mucchio di di Malerbi questo è l'originale salto mortale poi i libri sono stati quasi tutti quasi tutti ristampati forse mi pare che manchi all'appello il protagonista possiamo anche capire che insomma forse con la mentalità odierna sia un po' politicamente scorretto questo questo è il pianeta azzurro in questo caso era uscito da Garzante poi effettivamente si potrebbe fare tutta una ricerca sull'erotismo malerbiano che spesso appunto anche lo stesso protagonista poi ha un aspetto anche mortuario perché c'è il cadavere c'è tutto l'episodio della balena appunto che diventano attrattivi ma e quindi non è semplicemente lo scatenamento antirepressivo ecco questo e questo va detto e anche in altri casi ci sono sempre delle così delle stranizze nella anche nella pratica erotica dei dei personaggi sì direi che attraversa un po' tutta la sua produzione forse per esempio nel serpente è piuttosto presente e e poi dubbiamente nel diario di un sognatore anzi lì malerba confessa che a volte i suoi scritti derivano da sogni effettivamente se ammesso e non concesso che il diario di un sognatore sia esattamente il diario cosa che non potremo mai ovviamente verificare in nessun modo ammettiamolo direi che possiamo dare in questo caso accettare l'attendibilità del narratore ha una grande capacità fa anche più di un sogno a notte cosa che forse facciamo tutti ma non ce li ricordiamo non siamo pronti dico la penna no a scriverli quindi ecco lì addirittura c'è già il sogno della testa di serpente che poi nel pianeta azzurro diventa l'immagine del professore appunto di questo politico tremendo quindi sì indubbiamente è qualcosa come una libertà immaginativa soprattutto ci sono e c'è anche il diario di un sognatore i sogni di volo e appunto sognare di volare che effettivamente sono dei sogni estremamente liberanti poi c'è una piccola polemica che Malerba fa con le interpretazioni di Freud che gli sembrano poi come dire ancorare i sogni su di una problematica troppo precisa per lui invece si tratta di immaginazione esattamente e come tali appunto li utilizza beh il rapporto con Kafka sì è credibile anche perché direi che Kafka è un autore autore massimo dell'onirismo e quindi sicuramente nel materiale immaginativo c'è un rapporto con Kafka e anche appunto in questa idea che la scrittura nasce da un disagio non un disagio profondo e quindi si tratta di esteriorizzare questo disagio direi che invece tutta l'aspetto di questa logica del narratore l'intervento sulla logica del narratore è più di matrice secondo me in qualche modo illuminista settecentesca o comunque sperimentale quindi il rapporto invece si può si può fare sui materiali immaginativi che intervengono nella scrittura mi pare che forse ci fosse proprio un racconto ispirato proprio a Kafka il rapporto con la nevanguardia il rapporto con la nevanguardia è abbastanza perdivo non so bene attraverso quali canali e Malerba arrivi a contattare la nevanguardia però nell'archivio del novecento qui alla sapienza dove ci sono vari materiali pistolari anzi i materiali del pistolario mare erbiano sono lì ho potuto vedere che nelle prime lettere che accompagnano la pubblicazione del serpente sanguinetti o anche altri gli danno del lei quindi questo significa che insomma il rapporto non era proprio interno inoltre Malerba si tiene al di qua delle dispute teoriche mi sembra che non abbia mai partecipato ai convegni come invece fa per esempio un altro narratore narratore che è Giorgio Manganielli Manganielli va un po' lateralmente ma c'ha le sue teorie tra l'altro della letteratura come menzogna che è forse molto vicina anzi all'idea appunto anche di Malerba della falsità dentro la finzione e semmai i rapporti e poi appunto ripeto lì abbiamo l'automizzazione della della narrazione ci sono i romanzi dei poeti sanguinetti Antonio Porta Balestrini Balestrini Chi del Tristano mescolando tutte quante le frasi narrative quindi non si capisce più nulla i personaggi hanno delle iniziali puntate quindi chi sono cosa sono una donna un uomo non ci si può raccapezzare in quel libro e quindi sono diciamo gli antiromanzi più radicali invece Malerba è godibile appunto anche il primo Malerba adesso vi ho letto quel brano di salto mortale insomma spero che vi sia piaciuto perché effettivamente questo battibecco è comunque leggibile poi è vero che è un giallo dove non si ritrova più nulla e quindi però sul piano appunto comico muristico la verba funziona funziona molto bene semmai poi i rapporti più stretti con vabbè Pedullà che non era neanche lui dentro al gruppo 63 ma con Angelo Guglielmi con Pagliarani sono successivi con la cooperativa scrittori cioè loro provano ma quando il gruppo 63 si era già sciolto a costituire questa piccola casa editrice che ha pubblicato delle cose molto interessanti compreso un piccolo racconto di Malerba che si intitola Pinocchio con gli stivali dove le fiabe si diciamo entrano una nell'altra e appunto Pinocchio si prende gli stivali del gatto e va dal re a chiedere appunto la sua compenso e sì e quindi in questo senso possiamo dire che non ecco però l'avanguardia io me ne occupo da tempo permettetemi di spezzare una piccola lancia oggi nessuno tutti sputano sull'avanguardia ha un merito secondo me esattamente non nei suoi autori interni ma nel fatto che in un certo momento dà un'impressione di libertà e quindi questo stimola la creatività di tutti gli scrittori in un certo periodo che si sentono autorizzati a fare delle cose strane e Malerba appunto ha fatto questa ha avuto questa idea del narratore diviso che anche l'autore più radicale che esiste che è Beckett in quel periodo c'è già stato l'innominabile che è un romanzo estremamente fuori della norma ma non aveva pensato a questa ipotesi del diverbio nella specola nell'abitacolo del narratore dove appunto ci sono due voci che discutono ci sono grandi modelli di riferimento come Malerba Volponi la prossima volta Bufalino e tanti altri che nel corso dei mesi andremo a conoscere che insomma li dovremmo un po' prendere come fari nella notte e ci dovrebbero un po' guidare e aiutarci a capire dove si trova la vera letteratura ed aiutarci ad essere anche appunto scrittori e lettori più consapevoli professore allora grazie grazie a tutti vi ringrazio anch'io grazie a Francesca Buratti a tutti i partecipanti con i miei auguri di buona lettura naturalmente lettura intelligente se possibile bravo esatto io vi aspetto il prossimo mese vi aspetto il prossimo mese ricordatevi che il 15 novembre tra l'altro è proprio il compleanno di Gesualdo Bufalino appunto con quest'altro grande maestro di stile del novecento e che con il presidente della fondazione Bufalino avremo modo di conoscere e approfondire allora vi aspetto il 15 novembre vi arriverà sempre il link di promemoria il giorno prima qualsiasi cosa i miei riferimenti li avete email cellulare lo trovate sul sito io sono a disposizione se avete bisogno di confronti di necessità riguardo ai libri che vi sono stati indicati buona lettura buona serata e a presto grazie a tutti Grazie a tutti.